Sarà prima il Parco della Speranza in via Lago di Capestrano, nel cuore del quartiere Rancitelli, Villa del Fuoco, poi si sposterà a Fontanelle in via Caduti per Servizio ed infine visiterà il parco dell'ex Caserma Cocco in via Lepindaro nei pressi dell'università. Il ministro della difesa Elisabetta Trenta nel pomeriggio farà un tour delle periferie e delle zone tra le più problematiche della città di Pescara per verificare e sostenere la richiesta della candidata sindaco pentastellata Erika Alessandrini di attivazione dell'operazione Strade Sicure. La campagna permetterebbe di avere il presidio dell'esercito nei quartieri di Rancitelli, Villa del Fuoco e Fontanelle per fronteggiare i numerosi episodi di criminalità, fornire un adeguato sostegno alle altre forze dell'ordine presenti sul territorio e tutelare così la sicurezza dei cittadini. Intanto il deputato 5 Stelle Andrea Colletti ieri ha presentato due emendamenti per far aumentare ad 11 milioni all'anno i contributi destinati alla grande Pescara. Se dovesse passare il primo dei miei emendamenti che, come detto a costo zero, noi potremmo avere ben oltre 8 milioni di euro annui per 10 anni quindi parliamo di una cifra che si avvicina ai 90 milioni di euro in 10 anni a favore della nuova Pescara. Questo è un obiettivo che non possiamo perdere non lo possono perdere i cittadini ma non solo per i fondi in più ma soprattutto per la migliore gestione del nostro territorio.